Ciao amici e benvenuti in questa nuova puntata di Che Vita da Marketer. Allora, visto che in questo podcast, oltre a parlare di neuromarketing, marketing esperienziale, nuovi approcci e modelli di marketing e di business, parliamo anche di strumenti digitali e piattaforme digitali, non potevo perdere l'occasione e parlare anch'io di Instagram. E quindi vi insegnerò come si ottengono 100.000 followers in una settimana. No, scherzo. Non farò niente di tutto questo, ma vorrei parlare con voi dell'evoluzione di questa piattaforma e di come le aziende e i libri professionisti stanno utilizzando questa piattaforma per comunicare con il proprio pubblico ed aumentare la propria brand awareness. Ciao e benvenuto nel podcast Che Vita da Marketer. In questo spazio andiamo alla scoperta di strumenti digitali, piattaforme e nuovi modelli di business. Tutto questo con l'obiettivo di trovare soluzioni di valore per imprenditori e professionisti del marketing. Io sono Igor Sashin. Let's go! Dunque, negli ultimi 6-7 mesi sicuramente il fenomeno che colpisce di più nel mondo dei social media è quello di un netto abbandono di Facebook da parte di moltissimi utenti. Non fraintendetemi, Facebook è ancora il social media più utilizzato al mondo, quindi ha ancora moltissimi utenti. Però è vero che il tempo che gli utenti passano su Facebook è diminuito nettamente. Ora, tutto questo ha tutta una serie di motivi. Un po' sicuramente è legato al fatto che le nuove generazioni hanno bisogno di social media molto più personali, molto più real time e Facebook è diventato da un certo punto di vista obsoleto e da un altro punto di vista nel tempo si è super riempito di contenuti che hanno un po' fatto perdere il vero valore a proposito di brand identity di cui abbiamo parlato anche nell'episodio precedente. Facebook nasce con l'obiettivo di mettere in relazione persone di tutto il mondo e quindi i loro contenuti e quindi fargli partecipare nelle conversazioni fargli condividere le foto e far sì che loro possano interagire tra loro. Col tempo però le forme di monetizzazione di Facebook e quindi anche l'advertising stesso ora lasciamo perdere il discorso della vendita dei dati eccetera non voglio entrare in merito però parliamo di advertising puro. Con il tempo le aziende hanno investito sempre più soldi in advertising su Facebook perché effettivamente l'advertising di Facebook devo dire che è molto efficace perché riesce a segmentare riesce a darti delle basi su cui fare le tue campagne pubblicitari che sono molto efficaci perché capiscono l'utente meglio di chiunque altro con il tempo quello che è successo è che l'advertising e quindi le forme impersonali di contenuto hanno cominciato a riempire la home e chiaramente c'è stato meno spazio per i contenuti dei miei amici del mio amico di palestra del mio vicino quindi le persone con il tempo hanno cominciato a freddarsi nei confronti di questo social network quindi la situazione attuale rimane questa anche se il nostro zio Mark se ne è uscito qualche settimana fa dicendo che avrebbe penalizzato i contenuti sponsorizzati per dare di nuovo molta più visibilità ai contenuti del nostro network però staremo a vedere come evolverà questa situazione detto questo ripeto Facebook rimane sicuramente una piattaforma secondo me da tenere d'occhio da tenere in considerazione anche perché è ancora il social network più grande al mondo per alcune attività è ancora molto importante perché ci sono molte persone che stanno su Facebook quindi quando andiamo magari a promuovere determinate iniziative ma anche a fare ecco l'advertising lancio di un nostro prodotto o servizio non possiamo non tenerlo in considerazione perché è ancora una base di utenza veramente importante ma in tutto questo il nostro Mark può stare anche relativamente tranquillo perché il suo secondo social network che è Instagram sta andando alla grande negli ultimi anni è cresciuto sempre di più ma soprattutto nel 2018 ha fatto sicuramente un salto di qualità importante ora tutti conosciamo i fenomeni di influencer Mark i fenomeni di Chiara Ferragni di turno e vediamo come ci sono tantissime persone che hanno trasformato la loro presenza su Instagram in una vera e propria professione uno dei motivi di tutto questo è che Instagram a differenza di Facebook ancora rimane un social media orientato ai contenuti prodotti dalle persone poi è vero che ormai il marketing si fa anche in modo indiretto nel senso che il contenuto prodotto da Chiara Ferragni nel 90% dei casi è sponsorizzato quindi è presente l'azienda in quel contenuto ma magari non lo è in modo palese al 100% anche se noi riusciamo ad intuirlo e riusciamo a vederlo anche perché ormai il giochetto l'abbiamo capito e quindi riusciamo a sgamare facilmente i contenuti sponsorizzati nonostante questo l'impressione è che la parte relazionale e umana su Instagram è ancora molto forte probabilmente la causa di tutto questo che in parte influenza anche un leggero declino di Facebook è che Instagram rappresenta un'evoluzione un nuovo modo di comunicare soprattutto dopo che il nostro buon Mark ha implementato in Instagram quella che era l'idea di Snapchat quindi delle storie, dei brevi contenuti, video che rimanevano sulla piattaforma per 24 ore per poi sparire Instagram ha fatto sicuramente un salto di qualità quindi cavalcando un po' la tendenza del video e quindi della fruizione del video come principale forma comunicativa Instagram ha guadagnato posizioni e ha guadagnato moltissimi utenti dicevo che probabilmente rappresenta un'evoluzione del social network in generale proprio perché sta evolvendo il modo di comunicare il contenuto video è molto più coinvolgente rispetto alle foto o agli stati di Facebook e i vari post per questo motivo nella situazione attuale le storie sono diventate il vero contenuto su cui sta puntando Instagram anche se il mondo foto è ancora importantissimo anche perché consente tutta una serie di operazioni possibili da effettuare che poi fanno parte dell'architettura del social network che non sono ancora possibili da effettuare sul mondo video, sul mondo storie anche se secondo me è una questione di tempo quello che sta succedendo quindi è che le storie stanno diventando il vero protagonista fateci caso nella maggior parte dei casi tendiamo ad andare ormai sulle storie quindi tendiamo ad andare a fruire il contenuto video perché ci sembra molto più immediato molto più real time e sul tema del real time torneremo tra poco mentre le fotografie rimangono un po' come vetrina e chiaramente permettono di effettuare tutta una serie di operazioni strategiche finalizzate sia alla crescita dell'account che comunque alla sponsorizzazione e la promozione dei contenuti siccome gli utenti di Instagram nel tempo hanno mostrato un certo desiderio a fruire di contenuti video tipo storie anche oltre le 24 ore a parte Instagram TV che stendiamo un velo pietoso per il momento è una piattaforma secondo me molto sottosviluppata a parte quella Instagram ha previsto i contenuti in evidenza i contenuti in evidenza sono quelle famose palline che noi vediamo sotto la bio che ci permettono di includere in questi contenuti magari classificandoli tutta una serie di storie chiaramente per le aziende questo è importante perché permette di creare delle vetrine che possono essere divise per tematiche per categorie di prodotto insomma qualsiasi sia il criterio di discriminazione in questo caso ora parliamo un secondo dei cosiddetti numeri e delle vanity metrics un paio di anni fa sicuramente le aziende prendevano in considerazione soprattutto quei profili sto parlando chiaramente di influencer marketing che rappresentavano una base di utenza importante parlando di milioni ora le risorse dedicate ai micro influencer quindi quelli che vanno diciamo dai 100 ai 200 mila followers con un engagement importante stanno diventando sempre più grandi quando parliamo di budgeting e delle campagne pubblicitarie quindi le aziende preferiscono magari scegliere 10 micro influencers con un engagement importante e destinare risorse a loro piuttosto che magari a due account con milioni questo in parte è una conseguenza di alcune inefficienze di instagram collegate magari a account fake alla possibilità di acquisire account eccetera e quindi nel momento in cui le aziende vedono un influencer con 3 milioni di utenti che però come caratteristiche quindi come segmentazione non rappresentano il target ideale dell'azienda l'account in analisi non ha un engagement sufficientemente elevato preferiscono magari focalizzarsi su altro per raggiungere un'efficacia migliore perché in fondo se ci pensiamo è quello che negli anni è successo anche con la tv visto che il mass media chiaramente permette di accedere a un'utenza importantissima d'altra parte non permette di focalizzare le campagne pubblicitari o meglio non permette di focalizzarle in maniera molto attenta andando a cogliere tutte le sfumature così anche sta succedendo nel mondo di influencer marketing e come ultimo ma non meno importante citiamo il fenomeno delle live e dunque devo dire che le live stanno aumentando sia come percentuale di engagement sia come il numero effettivo delle live fatte sulla piattaforma secondo moltissimi questo fenomeno è destinato ad aumentare sempre di più perché il live rappresenta un po' un'evoluzione successiva delle storie quindi se le foto rappresentavano un contenuto statico il video con le storie hanno rappresentato un contenuto dinamico che coinvolge di più le live sono un contenuto video che coinvolge più delle foto e delle storie e soprattutto è real time e oltre a questo permette di effettuare una sorta di interazione e abbatte tutta una serie di schermi che noi siamo abituati ad avere che sono legati un po' al discorso temporale per cui il momento in cui viene registrato il video non è lo stesso in cui noi poi effettivamente lo andiamo a vedere qui abbiamo la sensazione di partecipare e quindi ritorna un po' quella voglia di essere animale sociale di interagire di creare network da parte degli utenti e sicuramente con l'evoluzione della tecnologia e quindi con un'efficacia maggiore delle live sta aumentando anche sia il numero delle live effettive fatte dagli utenti sia l'engagement stesso in tutto questo scenario non possiamo non citare alcune piattaforme che stanno investendo moltissimo nel mondo live ma anche lo stesso youtube e lo stesso facebook ma soprattutto twitch per chi non lo conoscesse twitch è una piattaforma di streaming di live streaming destinato soprattutto al mondo del gaming però negli ultimi mesi sono nate nuove categorie anche per esempio per i talk show e si dice che sempre più aziende sempre più content creators si butteranno su questa piattaforma per fare dei contenuti in live stream e si dice che questo sia il successivo passo la successiva evoluzione dei social network se siete interessati vi consiglio di andare sul podcast del mio amico ormai giulio gaudiano e in alcuni casi lui fa alcuni esperimenti molto interessanti con lo stream su twitch quindi se volete sapere come funziona quali sono i risultati prodotti da questo nuovo strumento di comunicazione potete andare anche su strategia digitale e vedere un secondo come giulio riesce a gestire per esempio una diretta in questo caso una diretta di podcast interagendo con i propri ascoltatori creando dei contenuti e un engagement che secondo me è molto interessante bene amici anche oggi siamo giunti al termine del nostro episodio ringrazio ancora tutti voi per essere stati con me vi ricordo ancora che mi trovate su telegram che vita da marketer o anche come igorsashin quindi potete scrivermi e mi fa molto piacere inoltre chiaramente sono presente su instagram e se cercate che vita da marketer sicuramente mi troverete inoltre ringrazio tutti coloro che hanno dedicato due minuti per lasciare una recensione su itunes se questo podcast è di vostro gradimento se trovate dei contenuti utili e di valore lasciate una recensione con un commento su itunes per questo progetto è estremamente importante per continuare a crescere come sta facendo ed acquisire sempre più ascoltatori e far crescere anche la nostra community ragazzi con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao ciao